Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Partirà finalmente giovedì prossimo la campagna vaccinale anche a Cava dei Tirreni. Presso l'ex circoscrizione di Santa Lucia toccherà prima al personale del mondo della scuola e poi agli over 80. Intanto non mancano le polemiche per il ritardo. Vediamo. Partirà giovedì prossimo presso l'ex circoscrizione di Santa Lucia la campagna vaccinale per il personale scolastico. La stessa struttura sarà anche la location delle vaccinazioni per gli over 80, che comincerà sabato prossimo 6 marzo. A comunicarlo l'assessore alle politiche per la tutela della salute Armando Lamberti, il quale nelle scorse ore è stato in costante contatto con le autorità sanitarie universitarie e regionali per far sì che anche Cava dei Tirreni potesse avere un centro vaccinale per gli over 80, evitando così di farli recare all'ospedale Ruggi di Salerno. L'ospedale Santa Maria dell'Olmo infatti non è stato ritenuto idoneo ad ospitare il centro vaccinale, poiché non è possibile garantire un doppio percorso. In città tuttavia non sono mancate le polemiche per i ritardi nell'avvio della campagna vaccinale, sia per il personale scolastico che per gli ultraottantenni. Dubbi anche sull'opportunità della scelta dell'ex circoscrizione di Santa Lucia, in quanto ritenuta molto decentrata. Il primo a sollevare la questione è stato il coordinatore di Potere al Popolo, Davide Trezza. Se in un primo momento i ritardi potevano essere giustificati da una pandemia che ci aveva colto di sorpresa, oggi le inefficienze e i ritardi sulla somministrazione dei vaccini sono assolutamente imperdonabili. Purtroppo siamo vittima di una scelerata gestione degli organi di direzione generale, dell'azienda ospedaliera universitaria e dell'ASL, e dall'altra parte di una politica purtroppo inerte. Siamo alle solite, il nostro ospedale che dipende dall'azienda ospedaliera Ruggi, un'azienda sanitaria che non è messa in condizione di far rete con l'azienda ospedaliera, e dunque, eccoci qui, noi cittadini siamo vittima della cattiva gestione della sanità sul territorio e dunque oggi ultimi in provincia per la somministrazione di vaccini. E poi lasciami dire, è chiaro pure che viviamo in Italia e sappiamo bene che anche sull'ordine di esecuzione, di somministrazione dei vaccini vorremmo certezze e garanzie, se sul reale ordine di prenotazione, sul rispetto del reale ordine di prenotazione, perché a Cava continuiamo a rilevare tutti questi over 80 non vaccinati, mentre nei comuni limitrofi sembra procedere al ritmo più sostenuto? È soltanto un problema di spostamento o è un problema invece di ordini di prenotazione non rispettati, perché ciascuno sta badando al proprio campanilismo con i propri centri vaccinali sul territorio? Voglio ringraziare il lavoro enorme del personale sanitario che si sta davvero facendo in quattro, ma purtroppo quando ci sono problemi di programmazione e di integrazione tra medicina ospedaliera e territoriale, come quelli di cui Cava è vittima da anni, poco si può fare. Più pesante invece il commento del gruppo consigliare la fratellanza, che in un duro comunicato stampa ha chiesto le dimissioni dell'assessore Armando Lamberti. E' ora di dire basta all'inettitudine dell'amministrazione Servalli e alla manifestata incapacità dell'assessore Arramo. E' giunto il momento che qualcuno paghi le sue colpe. Inoltre la fratellanza ha chiesto al sindaco Servalli il completamento in tempi brevi dell'allestimento del centro vaccinale a Santa Lucia per iniziare da subito la somministrazione dei vaccini almeno agli operatori scolastici. Sulla vicenda non si è fatto attendere anche il commento dei consiglieri comunali di opposizione del gruppo Siamo Cavesi. La gestione di questa fase dell'emergenza pandemica da parte del sindaco e delle persone di sua fiducia è gravemente deficitaria. Ai disagi causati alla popolazione anziana va aggiunto il tanto tempo per individuare e mettere a disposizione la struttura di Santa Lucia, relegando così Cava dei Tirreni a Fanalino di Coda nel Salernitano, visto che altrove questa specifica campagna di immunizzazione è già partita da diversi giorni. Servalli e i suoi collaboratori, Tuonano Muro, Lopasso e Giordano, hanno dimostrato ancora una volta tutti i loro limiti organizzativi nella gestione della pandemia. E ora, dopo le polemiche, si attende soltanto l'inizio della campagna vaccinale anche a Cava dei Tirreni. A Cava dei Tirreni, recentemente, sono stati registrati diversi tentativi di truffe agli anziani, messi in atto con la strategia del falso corriere. L'epidemia da Covid-19 non ferma i truffatori, che anche in questo duro periodo segnato dall'emergenza sanitaria, continuano a prendere di mira principalmente le persone anziane. Numerosi sono i tentativi di raggiro registrati nella città metelliana in tempi recenti, caratterizzati da un modus operandi ben collaudato degli artefici, provenienti dal napoletano. Nello specifico, i truffatori contattano telefonicamente la vittima, fingendosi un figlio o un nipote, che deve ricevere un pacco da pagare al momento della consegna. Dopodiché, un falso corriere raggiunge l'abitazione del malcapitato di turno, facendosi consegnare denaro ed oggetti preziosi in cambio del pacco dal valore inconsistente. Benché sul fenomeno siano al lavoro i carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni, è sempre fondamentale tenere alta la guardia, per non cadere nei tranelli dei malfattori. E la Guardia di Finanza ha operato un sequestro per equivalente per 800.000 euro a due fratelli, titolari di un'impresa di Angri. Avevano svuotato il patrimonio di una società in bancarotta, lasciando in piedi solo i debiti con il fisco. Questo ha scritto la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nel motivare il sequestro di beni per 800.000 euro a due fratelli, titolari di un'impresa di Angri, sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Salerno dopo l'accoglimento del GIP. Le accuse sono quelle di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nella fattispecie sono stati sequestrati un edificio di 15 vani e un ampio opificio in uso all'azienda, un'auto rimessa e tre appartamenti per un valore complessivo di circa 800.000 euro, garantendo in questo modo il ristoro dei crediti dell'erario. Gli accertamenti delle fiamme gialle della compagnia di Scafati sono iniziati nel luglio 2018, quando era stata dichiarata fallita una società di Angri operante nel settore della fabbricazione di impianti elettrici per le industrie. Nell'ultimo biennio l'impresa aveva accumulato debiti con il fisco per diverse centinaia di euro che ne hanno causato il dissesto finanziario, quando in precedenza, solo nel 2015, vantava un attivo di quasi 1.300.000 euro. Nel ripercorrere le vicende societarie, i militari hanno scoperto che, proprio per ostacolare la ricostruzione del patrimonio destinato alla liquidazione dei creditori insinuatesi nell'asse fallimentare, gli imprenditori avevano falsificato i bilanci e distrutto, o comunque occultato, la documentazione contabile, svuotando in breve tempo l'azienda di tutti i suoi beni. Riscontrato pure l'omesso accantonamento del TFR rispettante al personale dipendente, quantificato in circa un milione di euro. Se le accuse dovessero poi essere confermate, i responsabili rischierebbero una condanna fino a 10 anni di reclusione. Il TAR respinge in Campania le istanze dei genitori contro la chiusura delle scuole. Troppi contagi. Vediamo. No dad sconfitti al TAR. Il TAR Campania ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da un gruppo di genitori e dal Codacons Campania, contraria all'ordinanza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, con la quale è stata sospesa l'attività didattica in presenza in tutte le scuole della regione, da oggi lunedì 1 marzo a domenica 14 marzo. Tra le ragioni della decisione, la campagna vaccinale del personale scolastico, ma anche la preoccupazione per la diffusione della variante inglese del Covid-19. Secondo il TAR, l'istanza di misure cautelari monocratiche appare riferita a un quadro giuridico e fattuale databile al mese di gennaio 2021, mentre l'ordinanza regionale numero 6 del 27 febbraio 2021 risulta esplicitamente adottata alla luce di un quadro epidemico, quanto meno, in corso di mutazione. Il Codacons Campania, attraverso il Vice-Segretario nazionale Matteo Marchetti, sottolinea che il TAR Campania ha respinto non i ricorsi, ma le istanze di misure provvisorie e urgenti anteriore alla causa ex articolo 61 CPA e tale sospensione non pregiudica il ricorso che sarà comunque proposto nei termini con misura cautelare. Non verranno tollerati, aggiunge Marchetti, comunicati che riportano notizie inesatte da parte di chiunque, volti a screditare l'operato del Codacons, che sta affiancando le famiglie in questa eccezionale situazione emergenziale, aggravata dall'impossibilità di usufruire persino dei servizi educativi dell'infanzia e per l'infanzia, che saranno tutelate nelle serie opportune. E torniamo a Cava dei Tirreni. È stata abbandonata nei giorni scorsi un'ingente quantità di asfalto all'ingresso del Parco 10 Mare. La comunità locale invoca provvedimenti per la tutela dell'area. Nonostante i costanti tentativi di sensibilizzazione, nella città meteliana continuano a verificarsi atti scriteriati da parte di cittadini incivili che abbandonano rifiuti di ogni genere, deturpando la città, oltre ad arrecare un danno alla collettività. In particolare, nei giorni scorsi, all'ingresso del Parco 10 Mare, è stato abbandonato un'ingente quantità di asfalto. A farsi portavoce delle stanze della comunità della frazione Sant'Anna, è stato l'ex consigliere comunale Vincenzo Lamberti, che nell'ospicio che il progetto di valorizzazione del Parco 10 Mare, finanziato con i fondi PICS, possa andare presto in porto, ha invocato l'installazione di telecamere di sorveglianza all'ingresso della zona, oltre a una complessiva riqualificazione dell'aria, che possa ridare dignità e cura ad una meravigliosa terra ricca di varietà arboree ed essenze. Prevista l'interruzione idrica, per alcune ore della giornata di giovedì, anche in alcune zone di Cava, lo annuncia l'Ausino. L'Ausino informa che, dovendo eseguire un intervento di riparazione alla condotta duttrice integrativa nel tenimento di Monte Corvino-Rovella, località Gauro, è costretta a interrompere l'erogazione dell'acqua a partire dalle ore 7 fino alle ore 18 di giovedì 4 marzo, nei territori di Pellezzano, San Cipriano-Picentino, San Mango-Piemonte, Tramonti, e nelle seguenti zone di Cava dei Tirreni, Arco Cammarese, San Giuseppe Alpennino, Pregiatello, Via Aniello Vitale, località Starza, zone alte, località Pineta-La Serra, Petrellosa, e Scuola Elementare Sant'Anna. Sport Calcio. La Lega Pro ha rinviato ieri la partita ternana-cavese, e peraltro il numero dei calciatori a piloti positivi al Covid-19 è lievemente cresciuto. Vediamo. Il rinvio della partita ternana-cavese, che si aggiunge a quello già precedentemente deciso dalla Lega Pro per cavese e potenza, si può considerare un atto dovuto. I metelliani non erano nelle condizioni sportive e soprattutto sanitarie per poter andare a giocare a Terni, perché sono sotto il protocollo Covid della FIGC e sono anche bloccati per l'isolamento fiduciario. Peraltro ieri mattina il gruppo squadra si è sottoposto a un nuovo ciclo di tamponi e risulta che altri due calciatori hanno contratto il nuovo coronavirus. Quindi le condizioni già erano penalizzanti prima e adesso lo sono ancora di più, perché i giocatori contagiati oggi sono 17. Contando anche le altre figure correlate alla cavese, staff tecnico e dirigenti, i positivi totali sono 25. In pratica, il rinvio della partita degli Aquilotti, la seconda di fila, è stato ufficializzato ieri perché sarebbero stati disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra, tra i quali almeno un portiere, che sarebbero eventualmente risultati negativi al virus SARS-CoV-2. L'articolo 2 delle disposizioni della Lega Pro prevede appunto questa condizione sufficiente per il rinvio della gara. E inoltre, l'autorità sportiva ha considerato le prescrizioni dell'ASL Salerno emanate per motivi di sanità pubblica per il numero notevole di casi positivi riscontrati sino ad oggi. Un atto che ha forza maggiore rispetto anche a un eventuale jolly che la Cavese avrebbe potuto eventualmente giocare, cosa che il club meteliano non ha avuto bisogno di fare per ottenere lo spostamento dell'incontro in altra data. Quindi i bianco-blu non possono fare altro che osservare gli altri giocare e dopo l'incontro potenza-Turris di oggi gli occhi saranno puntati anche sulle altre gare Paganese-Viterbese, Foggia-Vibonese e Monopoli-Bisceglie previste domani per la ventottesima giornata della Serie C. I giocatori della Cavese sono sempre in isolamento fiduciario anche quelli che non erano rimasti inizialmente contagiati nel focolaio ma la prossima settimana a seconda di quella che sarà la situazione sanitaria gli atleti torneranno ad allenarsi alla spicciolata in vista del prossimo impegno ufficiale che sarà quello con il Foggia del prossimo 14 marzo allo stadio Zaccheria. Il prossimo weekend quello tra il 6 e il 7 marzo prevede infatti il turno di riposo per la squadra di Mister Campilongo che non dovrà giocare in quanto avrebbe dovuto affrontare l'escluso Trapani quindi impossibilità di fare punti in quel weekend ma probabilità che un buon numero di calciatori comincino a negativizzarsi e poi a sostenere le visite di rito per poter tornare a giocare quindi nell'impossibilità di marciare c'è lo stesso una sosta che può rivelarsi provvidenziale. E questa era la nostra ultima notizia vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG di RTC Quarta Rite Grazie a tutti